Al mio uomo. Baciare il mio uomo. Andare incontro ai riconditi segreti del suo cuore. Sentire in lui l'alito vitale che genera forza al mio spirito. Amare in modo totale. Non c'è più bisogno di rapporto carnale. Due anime si incontrano. Chissà quando. Si fondono. Si perdono nell'oscurità. Si lasciano per ritrovarsi. Unite e sugellate in un mistero di magma vitale. Durante la vita. Nella morte. Amanti per sempre. Il cuore sincero cerca nel tempo che è stato e sarà. Chi eravamo. Chi saremo. Vite passate. Vite future. Padre e figlia. Un marito e moglie. Segreti irrisolti. Ma spiriti sciolti. Rimodellati nel crogiolo dell'amore eterno. Che viene da lontano. E non finirà. Grazie a tutti.